Qua con Oscar di Montigny sta per parlare al pubblico, Oscar cosa ci puoi dire di questa seconda giornata qui alla convention di Mediolanus, puoi darci qualche anticipazione? Ieri allora, innanzitutto una grandissima giornata ieri, lanci importanti, grandi novità per quanto riguarda la nostra nuova offerta sul mercato, oggi parleremo di tutto ciò che sono i rilasci tecnologici che faremo Massimo Doris annuncerà tre grandissime novità, l'NFC, il pagamento con Paypal, l'utilizzo della mobilità al servizio dei nostri clienti, oggi io racconterò con grandissima gioia un anno e mezzo di fatiche con i miei collaboratori e colleghi che sarà il nuovo sito per i nostri clienti e tutta la parte di interazione e collaboration che i nostri clienti possano fare nel sito con la nostra rete di vendita tra una cosa del suo genere, in questo momento, distante le informazioni, pubblica al mondo Ok, ti ringrazio molto, veloce, passi